l la carta è più svelta g salta su sopra la carta è più svelta della carta è più svelta la carta è più svelta in questo modo Grazie a tutti. La gatta è fregna, no? Eh? La gatta è birba. Blu? Vai blu, attacca! Potenzialità da sviluppare nel prossimo futuro. Gemelli, puntate alla realizzazione immediata che avete pensato a ciò che volete ottenere. Cancro, parte il punto della situazione e sarà più facile avere delle possibilità di riuscita.